Una buona notizia, anzi un'ottima notizia. La Costituzione dell'Associazione Extramenia, presieduta da Ambrogio Preziosi e partecipata al fioffiore degli imprenditori, dei professionisti, dei manager che la città hanno overa, poi faremo alcuni nomi, non tutti, ma questo è in qualche modo il punto di partenza di un impegno, di un ritorno in campo di chi mancava alla vita pubblica della città che si era molto impoverita e che oggi invece si arricchisce di cose concrete, non parole ma progetti, volontà di fare, volontà di realizzare qualcosa di utile e di serio in un'area che ha grandi potenzialità, l'area orientale della città che va dal porto e arriva fino a Piazza Caribaldi e oltre con tutte le aree che ci sono intorno, alcune delle quali, come quella di Castel Capuano, con grande valore storico, culturale, artistico. Ecco, quello che è avvenuto ieri è un fatto importante perché è come se, insomma, desse l'idea che si è rimesso in moto qualcosa in questa città che invece, come dire, aveva scelto di sopravvivere. No, questo atto dà il segno di qualcosa che si muove, si muove nel mondo imprenditoriale. In questa associazione, come dicevo, oltre a prezioso, sono impegnati industriali importanti, Graziano della Magnaghi, Lettieri della Titec, Scudieri, il Presidente dell'Associazione Costruttori Brancaccio, il Presidente dell'Azienda di Trasporto e della metropolitana Cascetta, manager come Borgomeo. Insomma, ieri De Lughe e Cosenza hanno confermato, Cosenza per conto del Sindaco Manfredi assente, hanno confermato la disponibilità a trovare insieme soluzioni intelligenti a semplificare le cose, a realizzare un piano urbanistico che è indispensabile perché senza il piano urbanistico gli interventi ne sono isolati e la crescita non si trasforma automaticamente in sviluppo e credo che possiamo essere fiduciosi sperando di non ricevere altre delusioni come è avvenuto in passato, sperando quindi che non si determinino nel mondo imprenditoriale, divisioni, rotture, scontri, che sarebbero assai negativi e che rallenterebbero questa iniziativa che ieri ha preso colpo. Io sono fiducioso, divento ottimista, penso che questa è stata la risposta più significativa e più efficace a quello che ha scritto le Figaro, che siamo una città da terzo mondo, Napoli non è una città da terzo mondo, ha molte criticità ma ha delle potenzialità e delle possibilità concrete di diventare quello che già nei fatti è, trasformandosi adeguatamente, una grande metropoli, una grande importante metropoli non solo del Mezzogiorno d'Italia ma del Mezzogiorno d'Europa.